Chi sono gli hater? Se tu sei uno che va a commentare le pagine degli altri con frasi tipo non mi piace, non sei capace, fai cagare, sei un hater. Sì, perché se una cosa non ti piace la ignori. Se invece non sei capace di ignorarla, ma devi lasciare il segno del tuo disprezzo, allora sei un hater. Mi hanno detto ignora gli hater, perché chi ti critica è sempre qualcuno che ha ottenuto meno di te. Non ti criticherà mai qualcuno che ha ottenuto più di te, perché ha altro a cui pensare. C'è un lato positivo in tutto questo. Per quanto gli hater ti odino, non ti toglieranno mai quello che hai ottenuto. Anzi, possono motivarti ad avere successo. Tu ricorda sempre che l'obiettivo di un hater è quello di ferirti e di farti rinunciare ai tuoi sogni. Quindi un modo efficace per ferire gli hater è quello di non rinunciare mai ai tuoi sogni.